L'importante stanziamento previsto dal Decreto Legge Cura Italia per garantire la realizzazione delle diverse attività di didattica a distanza che le scuole hanno in programma sta creando non pochi problemi. Le prime avvisaglie si sono registrate già una settimana fa, quando la nostra testata aveva incominciato a parlare delle iniziative di alcuni comitati locali o gruppi Facebook che, vista la situazione di emergenza diffusa nelle strutture ospedaliere di gran parte del Paese, chiedevano che gli 85 milioni previsti dal Decreto fossero dirottati sulla sanità. Il primo articolo da noi pubblicato aveva raccolto centinaia di commenti, decine di migliaia di contatti, tanto da indurci a proporre anche un nostro sondaggio, al quale hanno risposto più di 4.500 lettori che, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono dichiarati d'accordo sulla proposta di destinare i soldi alla sanità. Un appello promosso dal gruppo Facebook Dirigenti Scolastici Italiani ha raccolto decine di migliaia di firme. Nella serata del 24 marzo i promotori segnalavano già 66.000 adesioni, di cui 800 dirigenti scolastici, 41.500 docenti, 24.000 genitori. Ma intanto il Ministero è andato avanti ugualmente. Nella stessa serata del 24 marzo si era diffusa anche la notizia di una circolare ministeriale con indicazioni precise sui materiali che le scuole potranno acquistare e sulle procedure che dovranno applicare. Nella giornata successiva però dal Ministero hanno fatto sapere che la circolare deve ancora essere perfezionata e che i testi circolati fino a questo momento sono ancora del tutto provvisori. C'è da augurarsi che questa incertezza venga sciolta il più presto dal Ministero anche perché ormai le scuole che hanno attivato percorsi di didattica a distanza sono davvero tante e in molte aree del territorio nazionale non mancano alunni, ma per la verità anche docenti che stanno partecipando con mezzi di fortuna e con strumenti anche piuttosto obsoleti. Nelle dichiarazioni rese al Senato proprio nel pomeriggio del 25 marzo la Ministra Azzolina ha ribadito che firmerà a breve il decreto di riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche. Il riparto, ha aggiunto la Ministra, sarà improntato a criteri equi e cioè numero degli studenti e dato sulla condizione socio-economica delle famiglie cui appartengono. Azzolina ha anche detto che il fondo non verrà distribuito a pioggia ma terrà conto della concreta condizione degli studenti per supportare in termini di eguaglianza sostanziale quelli che ne hanno più bisogno. Parole condivisibili ma adesso ci vogliono atti concreti, altrimenti potrebbe essere davvero meglio, come molti sostengono, di rottare su altre emergenze gli 85 milioni stanziati per la scuola. Sul tema continueremo ovviamente a tenervi aggiornati sia su questo canale e anche nel nostro portale www.tecnicadelascuola.it. Inviateci le vostre osservazioni, i vostri commenti, noi ne daremo conto come sempre.